scalcialo scalcialo facile facile è scomparso il portiere ma è scomparso non so se si è teletrasportato ma guarda che scompare a un certo punto scompare e arriva questo ci sarà nelle partite quando ti hai inquadrato adesso non sei inquadrato guarda che portiere scompare con la testa sotto la testa guardalo è scomparso sotto il terreno di gioco perché si vergognava guarda bene che scompare va per terra e poi scompare la testa bene abbiamo un altro glitch